Buongiorno, sono Viviana Cadamuro, presidente della Sorgente di Sogni, Associazione di Promozione Sociale. Desidero ringraziare Piene Box per questa grande opportunità che ci sta dando nell'invitarvi tutti quanti all'evento di domenica 17 aprile dalle ore 10 alle ore 16 e 30 nel centro commerciale Meduna di Pordenone, dove ospitiamo la bottiglia più grande del mondo. È una bottiglia magica realizzata con una struttura in ferro ed è stata realizzata con una grandissima collaborazione sul territorio di solidarietà. È lunga 11 metri per 2,40, è stata riempita di tappi, la stiamo veramente riempendo di tappi, tappi raccolti da parte di tutto il territorio, che saranno donati alla Via di Natale. Noi desideriamo veramente invitarvi per portare i vostri tappi, per rendere ancora più magico questo momento, questo grande segnale di solidarietà, perché Via di Natale è una struttura molto importante che abbiamo sul nostro territorio e i quali è giusto passare anche un testimonial che ci siamo, tutti noi ci siamo. Sarà una giornata magica perché ci sarà la testimonianza di tantissime persone alle quali noi come sorgenti di sogni desideriamo dire grazie. Grazie per il modo con il quale si sono attivati, per il quale hanno sostenuto questo progetto e per il fatto veramente che credono in quello che è un messaggio di vita, un messaggio di positività. Assieme a Piene Box per cui desideriamo invitarvi tutti domenica 17 aprile nel parcheggio del centro commerciale Meduna all'aperto, dove vivremo veramente un momento magico di una grandissima solidarietà. Vi invitiamo per cui ad esserci tutti, anche se c'è la pioggia, portate con voi i vostri tappi che manderemo veramente un messaggio infinito al mondo di una grandissima solidarietà. Grazie e vi aspettiamo.